Signore e signori, è stato un onore, è stato un onore servire la patria Gianmarco? 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 Sium me l'ha ucciso davanti agli altri Sium Stai scherzando? Sium, non mi ricordo, non ho la tutta l'idea Sium, sono io ma stai scherzando Gianmarco? Pontiera, Stato, stavamo fino a 4 secondi fa insieme dentro Navigation Con altre 20 persone, sono anche delle scese a Shield, vero? Sì, io ho visto un rosso che scendeva dalle botole Io in effetti ho visto Zan e Navigation che mi è passato attraverso, però le luci erano spente No ma non hai capito, gliel'ha ucciso davanti, cioè come faccio? Ti sto salvando per questa chiera Ma non ha completamente senso che me l'ha ucciso, ma non l'ho ammazzato io? Le luci sono andate a fare, io non ho visto nessuna scherzando L'ha ammazzato Gianmarco, Marzo? Io non l'ho visto, sono arrivato e lui stava sotto a fare Shield e sopra c'era il cavabere Io stavo facendo Shield, evidentemente ne è passato un altro lì sotto Io stavo con Millie Bobby Brown in Navigation Hai detto che c'è pure Shield e Navigation Eh sì, è lui, Millie Bobby Brown e sì Io ho visto uno che ha botolato, c'è Dove? E dove? Che che è? Mi pare... non so dove A destra, a sinistra A destra, a sinistra A destra, a destra, sicuro Potrebbe essere stelo, eh Cri, io ho visto uno che ha botolato, sì Guarda che con sta col del frame potrebbe essere stelo Perché? Perché c'è la botola lì Ragazzi, io mi sto... Vabbè, schifo, però... Ma non ho capito questa cosa Com'è successo che stavo venendo... Stavo venendo fottuto io Ah, fre, guarda che se siete... Se siete in... se siete in quattro uno comunque a prescindere non ammazza perché se no... Sì, ma dove è stato... dove l'ho trovato il corpo? Io ho fatto tutto il corridoio col professore da solo Ah, da su, ok... E poi anche qua... E poi anche qua... E poi anche qua... E anche qua a ruina da solo A me... Sinceramente... Ma cosa sta succedendo... No, frate, ma Sbiro non può essere... Perché c'è prima... La cosa di prima... Sì, a me mi puzza troppo il marrone... Non è bene così... E invece... No, raga... Oh, no... Mbp e Kfren sono morti... Che hai trovato? Il frene... Dove? Allora, Peppino... Fate voler... Fate voler al professore, signore... Che ha fatto? Elettrisi di botolato in telecamera... In telecamera è entrato Stedo... Ha ucciso Stedo... Ma te sei matto... Ma te sei matto... Perché... Perché li ho visto... Perché li ho visto... Ma io in telecamera... Non sei matto... Perché li ho visti un secondo fa... E erano tutte e due vivi... Un secondo fa... Prima che chiamaste... E se è tutte e due vivi... Quindi che cazzo è la macchina vicenda... No, no... Sì... Scusa... E il professore... Chi cazzo è? Non è Tulla... Sì... No, sì... Buongiorno... Hai detto tutti e due vivi... Ah, ok... Ma dove? Ma io ero in... In elettrisi... Non ci sono mai stato... Ma da 1 a 25... 26... Anzi, regà... Io ero... Io ero in telecamera... Tutto il tempo... Ho capito... Ma io ti ho visto... In telecamera... Che ci stavi costeto... Un millesimo di secondo... Prima che venisse chiamato... Tutto questo... E questa la domanda... Perché se è morto... Hai visto... All'agri... No, allora io non ho capito... Io ero in telecamera... Io non so cosa... Con me... Non so... Perché stavo guardando... Le telecamere... Posso dirvi... Perché trastogiamo prima... Perché prima... Hanno fatto la kill in Mad Bay... E prima che venisse riportato il corpo... E poi è arrivato il professore dell'Electrical... Che saliva verso sinistra... Quindi probabilmente... Se era lui... A botolare... Ma di che cosa... Ma che bocca... Ma che cosa stai dicendo... E io me la fido già... Aspettate... Ok sul professore... Ma posso parlare un asio... Sul cadavere che ho trovato... Era in... Ossigeno... A destra... Cioè in navigation... Scusate... Ok... Io ho questo peppino a salire... Mi ricordo... Non sono mai entrato in navigation... No, non sei entrato in navigation... Nel corridoio però... Eravamo insieme... Io non ho preso nessuna botola... Io l'ho preso in telecamera... Per me... Giammarco... Però... Io sto cercando il secondo... Poi te vivi proprio nel 2030... Eh sì... Tipo Wina... Tipo Wina... Adesso ha schippato... Ad esempio... Insomma... Dai ragazzi... No ma non avrebbe senso... Ok adesso la situazione si inizia a fare un po' più complicata... E si farà questa finta... Ciro come hai fatto... Ciro come hai fatto... Cosa... Come hai fatto a far cosa... Sei sparito frate... Non ho partito subito... Andando sinistra perché... Stavo... No no no... Stavamo... Per uccidere cosa? Per... Per uscire... Ah ho capito... Per uscire... Stavamo attaccati a un muro... Uno di fronte all'altro... Sei volato... Maestro sono andato dritto a sinistra... Ma... A caso? Hai trapassato un muro... Eh cos'è? Adesso sono killer perché trapasso i muri... No voglio sapere come hai fatto... Semplicemente... Ho iniziato a premere a stecca... Proprio così senti? Appena inizia il round... Per andare subito a sinistra... Perché dove andare a reactor... E non volevo stare stupcato tre ore... Ok... Hanno chiuso le porte... Hanno chiuso le porte... E penso che... Allora io... Io voglio fare la spiro infamata su Wina... No no no... Sì no... No l'ho vista fare cose le tasche... Hai in navigation il secondo round... Sono abbastanza sicuro... Ah ok... Ha schippato perché non sapeva che fa... Ok... Sono abbastanza sicuro... A questo punto... Che famo zi... Secondo me uno abbia... No anzi... Secondo me che porco dio... Il professore era uno... Stiamo 4v1 raga... 4v1... Ma schipperà schifo... Io voglio sapere da Ciro... Perché mi è passato attraverso una porta... E premi premi a... A penne di terra maestro... Se non mi succede impazzisco... E ci padre... Sono abbastanza sicuro... Oh... mi sentite raga ciro ciro te e arruina siete stati sempre insieme ciro non si sente c'è sempre stato insieme no no visto entrare così io sono stato con giro il corpo era in coso in coin admi io sono stato un po con giro e ho constatato che adesso attraverso la porta ci siamo passati in due nozzi lei no lei l'ho vista davanti ai miei occhi e faceva le tasche sono rimasto ci sono rimasto pure insieme da stompa in 18 modi diversi non può essere se tu allora se tu hai voluto cliccare fuori il prof che secondo me era sospetto non sei perché non ha senso blemato timide anche ho cliccato il prof no no ma dico l'hai proprio accusato sono stato il primo di cosa che stavo pensando mi lascia perplesso e il maestro che prima la prima kill passa sul corpo e non instare porta non l'ho mai fatto lo sai che giro intorno a dire a sì quel non report iniziale mi puzza veramente il non report iniziale ti puzza veramente sulla bassi di che cosa che sono arrivato ti ho guardato fermo vicino a un cadavere normale ma hai guardato di che sì io sono salito e ho riportato instant perché te ci ho visto a te ma hai guardato come hai fatto a guardarmi sì c'era stavamo uno sull'altro questo round mi sono fatto la davanti a telecamere c'avevo i cavi e non stavo a entrare in electrical che mi mancavano due cose a sinistra o da destra ho fatto sempre sto a sinistra e poi sono arrivato lì in electrical da voi ma mi sei arrivato a destra tu no non sono arrivato da destra tiro porco dio sono arrivato da lower engine sono arrivato dio cane ho buttato fuori l'altro un postore ma cosa vogliamo cosa vogliamo fare vogliamo si parla ma anche per me il maestro sì se manca poco io non mi fido ben cazzo che manca poco ma perché vuoi schipare c'hai fretta di chi cazzo ma non capito perché devi votare me sulla base di cosa muo è complicato adesso è veramente complicato e maro non serve pre ammazzaggio a marco era il corpo in storage io e io voto già l'ho dato a io todo a te arro io che so che non è perché sta l'ho vista farmi le task davanti ma cosa c'entra io ti ho visto solo in electrical credo e perché non può essere perché non può essere self report quest perché ma perché sì ma tu continui a dire no veramente giuro ti giuro proprio con il bene che cazzo uno può volere ma tu mi spieghi perché dici che all'inizio io sono stato fermo due ore quando ti ho visto stavi al piede del cadavere due ore ma tu stavi a sinistra del cavale del cadavere nel nel cazzo di coso di shield c'è ma che avevo avvi passato sopra e poi sei tornato indietro io ho salito e ho riportato ma non è vero posso dare la mia considerazione o i miei dubbi su sbiron fame perché sempre è stato vicino a tutti assicurandosi di avere sempre un motivo per difendere diciamo infatti poi ho buttato fuori l'altro impostore perché mannavate fame airgame 1v5 praticamente può essere anche una giustificazione per tenerti più safe il fatto di buttare fuori uno eh ma quando non ci stanno dubbi c'è stavate a parlare di altro sono boccato io la prima cosa che ho detto è stato buttate fuori il professore quando ancora un contest e quando ci sta il dubbio oramai quello che è bello che vola tarbarmi ci aggiungo pure io che ci mette il carico se no che cazzo di senso c'ha che io ti dico butta fuori quello appunto hai più credibilità se butti fuori uno ho capito ma non c'ha senso ma non in sei vabbè ma fatti ma zì fate veramente come cazzo mi pare guarda cioè io quello che devo dire più di così in posto fa mi mancava ancora una task mi mancava perché c'ho ancora una task in arto a destra quanto cazzo c'hai messo? tanto zì ci metto tanto ci metto tanto zì perché porco dio devo sempre andare in giro da solo e mi stompano puntualmente su elettrico ma se prima hai detto che sei stato dietro a seguire ruina no no io dietro a ruina non ci sono mai stato ma ma ho detto che l'ho beccata su navigation nel secondo round e ho visto che stava a fare le task perché aumentava per bene vabbè giamma vabbè vabbè rega tanto la parola mia in questo gioco vale tipo meno di uno zì oh porco dio porco dio ragazzi fate giamma quanto gol perché se l'hai giocata da dio il marzano mi ha giocato si è quella che ha fatto giuglia marzone marzone gg grazie grazie mille grazie mille grazie mille